L'auto si incendia e viene divorata dalle fiamme. È successo ieri mattina ad Agropoli, presso la foce del fiume Testene, alle spalle di via Risorgimento. L'auto, una vecchia Fiat 1, ha preso fuoco a causa di un cortocircuito. Poco distante dall'auto in fiamme, anche altre due autovetture che fortunatamente non hanno subito danni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione dei carabinieri del comando di Agropoli e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che prontamente hanno provveduto ad omare le fiamme. La Fiat 1 è stata completamente bruciata dal fuoco. Fortunatamente all'interno della macchina non vi erano persone. Sul posto anche il proprietario dell'autovettura.